Buona domenica 5 febbraio, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, lasciate un bel like se vi piace questo video. Spero che, a proposito di piacere, sia rivolto a gradimento il logo che ho presentato ieri con gli amici di Yaya Studio. Devo dire che è stato un lavoro lungo, meticoloso, perché io sono così, tendo ad essere un perfezionista quando devo fare qualcosa di rilevante. Negli amici di Yaya Studio, nello specifico con Luca Cappuccio, abbiamo trovato subito una bella sintonia e quindi spero che possiate farci l'occhio, quindi l'abitudine alla nuova intestazione, alla nuova grafica. Un po' no, quando vuoi dare il bianco devi tinteggiare casa, perché lo devi fare innanzitutto per questioni di igiene e poi perché ti stufi. Vedi sempre il solito colore e vuoi qualcosa di differente ed è proprio il ragionamento che mi ha portato a rivisitare graficamente non solo YouTube, ma anche tutti i miei social. Instagram, Twitter, Facebook, quindi sono molto soddisfatto del lavoro e ringrazio di nuovo gli amici di Yaya Studio perché mi hanno indicato la via maestra e mi hanno fatto capire cosa volessi, come volessi ottenere un determinato risultato e sono molto soddisfatto. Assolutamente, siamo al top. Chi ha dimostrato recentemente di essere quasi al top è anche il Di Maria, che il 14 di questo mese spegnerà 35 candeline. Parliamo di un giocatore che in stagione con la Juventus ha maturato 16 apparizioni, ecco non direi gettoni perché per esempio un minutaggio alla mano, se guardiamo il rendimento di Di Maria in Coppa Italia, sono due apparizioni complessivamente da 28 minuti. 548 sono invece i minuti in campionato con 3 gol e 2 assist. 3 assist tutti nella stessa partita contro il Maccabi a Torino per un totale di 146 minuti maturati in Champions League. Insomma, il Fideo nella prima parte di stagione non ha giocato molto, ma complessivamente si parla quindi di 3 reti e 5 assist, che è un bottino che proprio sottolinea come questo calciatore, quando sta bene fa letteralmente la differenza. Lo abbiamo visto anche recentemente, sebbene quel contropiede gestito non in maniera oculata, affemismo, mi riferisco all'ultimo Juventus-Lazio di Coppa Italia, abbia mandato su tutte le fure Max Allegri, uscito addirittura con un minuto e mezzo d'anticipo prima del fischio finale, ma là ci stava perché Di Maria, alle volte no, può essere un po' troppo aulico, un po' troppo ricercato nella scelta, e là l'ha gestita male perché quella ripartenza lì sarebbe dovuta sfociare in un altro tipo di scelta, poi non è detto che debba fare per forza gol, uno lo auspica ma non è scontato, sicuramente Di Maria spreca il 92esimo più o meno una palla che sarebbe dovuta costare caro, perché nel calcio gli episodi fanno sempre la differenza, gli altri possono ripartire, ci può essere una giocata sporca, ci può essere un calcio piazzato, quindi capisco perfettamente come Allegri in quella circostanza si sia arrabbiato. Però Di Maria è un giocatore sublime, mi sembra che lo abbia dimostrato anche nella finalissima dell'ultimo mondiale. Detto questo, secondo me, trattare l'argomento rinnovo di Di Maria e in generale i vari rinnovi dei big, al momento lascia il tempo che trova, perché poi magari ne parliamo nei prossimi giorni. Un conto per la Juventus è dover blindare i giovani come Iling Junior, come Uizen, come è accaduto con Mulazzi, come è accaduto con Barbieri, perché tanto sai che Champions sono Champions, Europa League, Europa League, Conference League sono degli asset importanti per il mondo Juve e per la progettualità dello stesso mondo, quindi sono rinnovi che puoi pianificare a prescindere. Gli altri, sebbene credo che alla porta o in prossimità dell'addio siano diversi gli interpreti, da Juan Quadrado, da Alexandro, a meno che non scatti l'oromai celeberrimo rinnovo automatico, Adrienne Rabiot, vedremo cosa accadrà con Carlo Pinsoio, Sesto di Maria, e d'oggi non ti puoi muovere. Come fai a muoverti? Cosa puoi proporre? Per esempio, Arabiot, un giocatore che sta facendo una grande stagione, che ha fatto un ottimo mondiale e che verso i 28 anni vuole probabilmente monetizzare l'ultimo grande contrattone della carriera, per lo più probabilmente, aggiungo io, misurandosi sulla massima espressione internazionale, e quindi la Champions League. D'oggi la Juve naviga vista, tanto per usare una parola utilizzata recentemente da Max Allegri, ma in tutt'altro ambito, analizzando le condizioni di Paul Pogba. Questi sono prolungamenti che non puoi oggi, quindi a febbraio, pianificare, ed è chiaro che possono anche incentivare un pochettino all'esodo, perché non penso che Rabiot resterà ad attendere quali saranno le mosse della Juventus. Magari darà la priorità alla Juve per capire eventualmente un dialogo, ma contemporaneamente cerchi anche un piano B e lo fai adesso, quando puoi andare a firmare anche un precontratto che poi viene depositato al termine della stagione, eventualmente, con la prossima squadra. Quindi il fatto che si continui a parlare del futuro di Di Maria, ribadisco, per me lascia il tempo che trova, perché non ci può essere soluzione. E d'altra parte, io credo che lo stesso Di Maria sia stato molto chiaro e lo abbia fatto capire con i fatti. Innanzitutto, la scorsa estate ha impiegato più di 40 giorni, per dire sì alla Juve, perché probabilmente ha valutato anche altre opportunità, perché probabilmente ha valutato anche di tornare a casa con un anno d'anticipo rispetto alla sua tabella, perché Di Maria è sempre stato molto coerente un ultimo anno in Europa, la linea è sempre stata questa, e poi rientrare in Sud America. Io darei quasi per scontato che rientro in Sud America, se si farà, si consumerà tra le fila dell'amatissimo Rosario Central, ma ci sono state anche delle sirene brasiliane ultimamente, quindi io credo che Di Maria, se tornerà in Sud America, lo farà in Argentina con il Rosario Central, però mai dire mai, perché nel mercato tutto può cambiare, ma tendenzialmente la scelta di Di Maria è stata molto chiara, scegliersi una big europea che gli consentisse di preparare in migliori modi il mondiale, vinto, e poi tornare in Sud America. E su queste basi, io credo che difficilmente Di Maria cambierà drasticamente idea, sebbene anche ultimamente abbia serizzato un po' l'occhio al mondo. Juve ha detto più volte di trovarsi bene in questa società, in questa città, perché Di Maria ha sempre poi messo davanti, giustamente, la famiglia rispetto alle ambizioni individuali. Però, non lo so, secondo me è un finale già abbastanza scritto, già abbastanza scontato, è chiaro che poi, con qualche giocata delle sue, va a scendere la piazza, e può anche invogliare eventualmente a dire, sai che c'è, ma proviamo a tenercelo uno così forte, perché un altro così forte difficilmente potremmo prenderlo, e soprattutto a parametro zero. Ma vale il discorso della prospettiva, che ad oggi raffigura un grosso punto interrogativo per i cosiddetti instant players, i giocatori che abbiamo citato prima, Quadrado, Alessandro, Rabiot, Di Maria. Sui giovani puoi fare un ragionamento differente, perché al di là della competizione in cui parteciperai, avrai bisogno di determinati giocatori, che hai bisogno di, proprio, drasticamente, devi blindarli, perché rappresentano dei capitali importanti, e soprattutto una nuova linea che la Juve deve intraprendere, per continuare a sposare il progetto della sostenibilità, e per fare in modo che, quindi, questi ragazzi, chi più chi meno, abbiano l'opportunità di affacciarsi in prima squadra, chi è bravo davvero poi ci rimane, come sta accadendo in questa stagione, ma con una politica che dovrà andare drasticamente, sempre più verso questa direzione, che non significa non poter più comprare determinati giocatori. Poi questo fa parte della prospettiva, ovvero di ciò che accadrà, perché se sei in Champions puoi andare su determinati profili, se non ci va in Champions è difficilissimo arrivarci, se non vai in genere in Europa, tra mancati, introiti e quant'altro, devi fare necessità virtù. Quindi, il grosso punto interrogativo, legato al futuro della Juve, per me automaticamente spedisce questo discorso, legato ai rinnovi dei giocatori più esperti, nello sgabuzzino, nel senso, è un argomento che oggi non puoi affrontare minimamente. Sui giovani, invece, puoi andare avanti, perché anche a livello di costi, parliamo di numeri diametralmente inferiori, e soprattutto hai bisogno di rinnovare Usen, a prescindere. Hai bisogno, come hai fatto, di rinnovare Healing, hai bisogno, hai bisogno, hai bisogno, e lì si può fare un lavoro a sé. Ma per quanto riguarda Di Maria e gli altri, per me, oggi, soffermarsi su questo argomento è un esercizio davvero inutile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.